Monster Allergy è tornato ormai da qualche anno per Tunuè, è diventato Monster Allergy Evolution, Zik ed Elena sono cresciuti, sono diventati dei giovani ragazzi universitari che conoscono l'amore, conoscono le pulsioni, le attrazioni di questo corpo un po' più grande rispetto ai bambini che erano nella serie originale, Monster Allergy Evolution prosegue questo racconto con Il Filo di Arianna, il nuovo volume pubblicato da Tunuè in cui cosa succede? Andiamo a vedere un po' l'aftermat del volume precedente, riassunto delle puntate precedenti, avevamo visto Zik ed Elena diventare tutori di un gruppo di giovani fanciulli dotati di poteri straordinari, come da tradizione di Monster Allergy, il discepolo che diventa il maestro, il figlio che diventa padre, questo passaggio di consegne, questi nuovi ruoli, ecco c'era nel gruppo di ragazzini uno particolarmente minaccioso, Leon, la pecora nera del gruppo, il Draco Malfoy, quello che si lasciava attrarre dal lato oscuro e utilizzava i suoi poteri per fini malvagi e i nostri eroi lo dovevano arginare. E in questo episodio lo troviamo in una sorta di casa di cura, manicomio, ospedale, in cui chi non è proprio in grado di controllare i suoi poteri gli viene data una direzione un po' più tranquilla, viene tenuto, viene protetto, viene accolto in queste stanze, in queste celle, forse non si capisce bene, è un ospedale, è una prigione, è un manicomio, c'è quest'area comunque molto serena, è tutto molto tranquillo all'apparenza, ma forse si nasconde qualcosa dietro. C'è un personaggio, appunto, questo Leon, che è condannato narrativamente a essere cattivo, lo è davvero? Cosa può fare un personaggio quando da subito viene marchiato con il timbro personaggio negativo? Se ne riuscirà a liberare? Dovrà proseguire una tradizione di famiglia? Perché ha delle origini ben precise che i lettori di Monster Allergy conoscono. Lo scopriremo in questo volume, Monster Allergy, il filo di Arianna, che come grida questo bollone in copertina, ha visto la partecipazione di Licia Troisi, scrittrice fantasy che ha collaborato al soggetto e la sua impronta si vede perché ci sono delle creature del fantasy tradizionale. C'è, lo dico, c'è un drago, quindi un immaginario ben preciso, però tutto si inserisce molto bene con quanto Monster Allergy aveva installato nei suoi episodi precedenti. C'è una minaccia che viene dal passato, di questo non vi dirò nulla, c'è un ritorno, quindi è bene, ben fatto, si continua a prendere elementi della tradizione della serie e implementarli con quelli più nuovi. Cioè il vecchio e il nuovo si fondano, non è una nuova serie completamente avulsa da quanto è stato fatto, ma anzi si costruisce su tutto quello che c'era, ma il fulcro rimangono i due protagonisti. Prima di gettarci nell'avventura abbiamo modo di approfondire un po' la situazione, lo status quo di Zeke ed Elena. Andiamo a vedere anche la casa dove vivono i genitori di Elena e i suoi fratellini. Abbiamo un aggiornamento anche su di loro. Non si erano ancora visti in Monster Allergy Evolution. Elena aveva un ragazzo, ve lo ricordate? Nell'episodio precedente Elena, patata, aveva un ragazzo. Però è un ragazzo normale, Elena è abituata ad avere a che fare con Zeke, con i mostri, quindi un ragazzo normale, un semplice essere umano, sarà alla sua altezza. È una donna impegnata, Elena è una patata, è una donna, è una ragazza che fa 20.000 attività. Ora si ritrova anche a gestire una sorta di mini Hogwarts, mini Xavier Institute per domatori, per apprendisti domatori, quindi figuriamoci se può gestire un ragazzo, porta avanti questa relazione con non poche difficoltà. In più c'è questo zik, nei confronti dei quali ci sono dei sentimenti, ma non sono ben chiari quali siano, sia dal punto di vista della relazione, ma anche dal punto di vista dell'identità, del sentirsi qualcuno. Elena fatica perché lei non riesce più a stare dietro a questo ragazzo. Lui ha dei poteri che sono sempre più avanzati, lei è un essere umano, è nata come essere umano, ha studiato, però non riesce a essere al passo, crescendo si sente in difetto. Questa è una cosa in cui molte ragazze si possono riconoscere, perché per esempio succede nello sport che, arrivata a una certa età, quando si supera la pubertà, il corpo maschile è superiore, quindi ho sentito molte storie di calciatrici che soffrono questa inferiorità. finché si gioca una partita a calcio fra bambini di dieci anni, ancora si riesce a essere alla pari, ce la si gioca ancora. Passando il tempo, il divario fisico per strutture biologiche del nostro organismo si fa sempre più grande e le ragazze che si impegnano, magari allenandosi anche di più dei loro compagni maschi, soffrono il vedere che non riescono a raggiungere gli stessi risultati, perché la natura le ha fatte così. Ci ha visto un po' questa condizione in Elena, patata rifugiatrice, che ha delle qualità, però non ha i poteri di Zeke, quindi continua a essere vista come la ragazzina da proteggere, la principessina da salvare, lei non ha di sicuro il carattere da lasciarsi mettere i piedi in testa, quindi c'è anche questo conflitto fra Zeke ed Elena. Vediamo questo manicomio spizio che è affascinante, suggestivo, ben caratterizzato, ci sono delle scene d'azione che porteranno a chissà cosa, ma soprattutto c'è una costruzione nel finale, un personaggio va in un luogo, va in un luogo molto suggestivo, molto cattivante, ci intriga molto questo luogo, ma non possiamo saperne di più, perché si interrompe, si interrompe con un cliffhanger, non lo definirei cliffhanger, però è un finale molto aperto, che lascia suggerire un volume successivo, e infatti arriverà fra poco, perché Monster Allergy Evolution è stato ormai dichiarato da tempo, non sarà più una serie annuale, i primi volumi ci sono arrivati a cadenza di uno all'anno, ma la risposta del pubblico è stata così positiva che vedremo due volumi ogni anno, quindi diciamo più o meno semestrale, in corrispondenza con le grandi fiere italiane, uscirà un nuovo volume, quindi fra pochi mesi potremo mettere le mani sul seguito di questo volume, ipotizzo così un Luca Comics, è abbastanza scontata la risposta, intanto Il Filo di Arianna ci installa un volume successivo molto promettente, Thunway continua a portare avanti una serie tanta amata nel pubblico in passato, e lo è anche ora, perché va avanti con una qualità costante, il merito è dei disegni, in questo caso di Arianna Rea, questo gioco di parole, una storia intitolata Il Filo di Arianna, disegnata da Arianna Rea, non era voluto, ma è successo, ben fatto, Katia Centomo scrive la sceneggiatura, appunto in collaborazione con questa Licia Troisi, che è sempre più presente nel mondo del fumetto, andate a scoprire come se la passano Zic e Elena con Monster Allergy, Il Filo di Arianna, pubblicato da Thunway.